La Tav è il passato, così la sindaca a Pendino di ritorno da Dubai, ma il fronte del Sisi compatta, domani si tini in Piazza Castello, poi le manifestazioni delle associazioni di categoria. Primo piano la politica e lo scontro sulla Tav che si fa sempre più acceso se da un lato a Pendino ribadisce il no dei 5 Stelle, dall'altro il fronte Sisi-Tav si allarga e annuncia nuove iniziative. Davide Piriocos. La sindaca Chiara Pendino non arretra e anzi rivendica la storica contrarietà all'opera. La Tav dice è il passato, oggi le priorità del paese sono altre. A Pendino difende così la scelta della sua maggioranza di schierare la città contro l'infrastruttura. Il fronte del Sisi però alza la voce e annuncia nuove iniziative. Claudia Porchietto di Forza Italia dice che i numeri sono a favore dell'opera, ma teme che i tecnici incaricati da Toninelli di effettuare l'analisi costi-benefici avranno un approccio ideologico. Intanto su change.org l'ex sottosegretario Mino Giacchino raccoglie 40.000 firme a favore del progetto. La gente vuole la Tav perché ha capito che la Tav porta al futuro, porta al lavoro. Lei pensi che domenica pomeriggio avevamo 4.000 firme, stamattina siamo a 40.000. Vuol dire che 9.000 persone, malgrado le festività dei santi e dei morti, firmano ogni giorno questa petizione. Per la Lega il capogruppo Palazzo Civico Fabrizio Ricca accusa a Pendino di autoritarismo perché non tiene conto della volontà dei torinesi largamente favorevoli all'alta velocità. Insomma sulla Torino-Lione lo scontro politico è incandescente. Domani alle 10 è convocata a Piazza Castello una manifestazione contro a Pendino con l'hashtag Torino dice basta e sale l'attesa per la pubblicazione dell'analisi costi-benefici. Pare sia imminente, forse questione di ore.